da pazza come sempre sono un disastro però prima vi volevo fare vedere copro l'indirizzo ovviamente questo pacchetto che mi è arrivato da parte di Collistar in realtà da parte di una ragazza che seguo tantissimo e che adoro perché ha realizzato un'edizione limitata con Collistar ed è Adriana's Pink abbiamo questa polvere multi effetto con al centro questo sole super luminoso infatti si chiama sole è il pennello angolato da contouring che io già avevo visto alle sue storie e già mi piaceva tantissimo quindi non vedo l'ora di provarlo ma vi dirò di più io la provo insieme a voi così scopriamo se ci piace o no ho finalmente un po' di salute perché sono abbastanza bianca ultimamente tra protezione tra malanni e guardate quant'è bella mi piace tanto grazie Adriana veramente mi piace molto no vabbè la amo è troppo troppo forte ma ragazzi è sopporto ma quanto è brava è perdere un cane così perché nonno stava facendo il trasloco prendeva le cose di San Fedele per portarle giù ha lasciato Steven un paio di notti in una pensione non si sono accorti di niente non si sa come questo cane sia scappato dalla pensione hanno anche versioni contrastanti e purtroppo è stato preso sotto da una macchina di notte nonno ha ricevuto una chiamata dal veterinario quindi quelli della pensione non si sono neanche accorti all'inizio e che il cane era in fin di vita e purtroppo dopo poche ore è morto cioè veramente allucinante allucinante ciao ragazzi eccoci qui allora ragazzi se questo video vi piace mi raccomando sempre cliccate mi piace e scrivete un commento sotto a questo video qua noi ci vediamo al prossimo video da Cino Mangina è tutto ciao bella raga ciao 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 Grazie a tutti